Eros come cura del narcisismo. Cos'è l'eros? L'eros è lo sgretolarsi di ogni difesa. L'eros sancisce la fuoriuscita dal nostro piccolo io, in particolare dal nostro guscio narcisistico. Eros è lo scongelamento della vita, perché è la vita che si offre, è la vita che si apre, che si muove, che parla. L'eros rappresenta una sorta di semantica della ribellione alla morte. Se la morte è frammentazione, l'eros è convergenza di forze, il contrario della dissipazione. Quindi la modalità della vita è l'eros e l'eros richiede reciprocità. reciprocità. Perciò l'amore non può essere qualcosa che ci protegge. L'amore non protegge l'io, ma lo espone alla vita, lo denuda di fronte alla vita. E senza il coraggio di asporsi ad un rischio mortale, non ci può essere vita. Il narcisista vorrebbe tutelarsi da questa esposizione. vorrebbe proteggersi dal dissolvimento dei limiti del suo io. Ha paura di varcare i limiti dell'io. Proprio perché in questo superamento vive una morte dell'io. C'è una morte dell'io. Ma è proprio ciò che il narcisista dovrebbe fare. In effetti è proprio questa la cura del narcisismo. La cura è rottura del guscio. Rottura della protezione, della difesa, della chiusura. Perdita dei confini dell'io. Laddove il narcisismo invece è una riaffermazione dei confini dell'io, quindi dei suoi limiti. Chiusura, difesa. Perciò il narcisista non può creare nuova vita. Può solo ripetere il vecchio. Coazione ripetere. La coazione si rompe con Eros. Eros scardina. Apre. Per capire meglio questo meccanismo vi invito a vedere i miei video dedicati all'autorealizzazione nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata. Se siete interessati ad una consulenza dovete mandare un messaggio scritto su WhatsApp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza. Inoltre vi suggerisco di leggere i miei libri che si trovano solo su Amazon. Buona giornata.